Adesso la domanda penso più difficile, prego Gregorio Moracchioli Pronto Benedetti, cosa si prova a giocare con le ciabatte in campo? Non è facile rispetto agli altri calciatori? Ma in infradito il livello di difficoltà ancora è maggiore, quindi vuol dire che c'è un certo tipo di qualità però mi trovo bene e ti sto facendo vivere un sogno sulla faccia, dentro e fuori dal campo Grazie